9 giugno 1815. Viene firmato l'atto finale del congresso di Vienna. Nel 1815 i rappresentanti delle maggiori potenze europee, vittoriose su Napoleone, si riuniscono a Vienna per cancellare l'eredità della rivoluzione francese e del periodo napoleonico e restaurare i valori dell'anzian regime. Le basi su cui si fonda l'accordo sono due. Il principio di legittimità, in forza del quale su ogni trono deve tornare il legittimo sovrano, e il principio di equilibrio, che prevede per vari stati una grandezza territoriale tale da favorire una pace europea a duratura.